4 gol, tante occasioni, nessun pericolo corso se non su un rigore arrivato sul finale di primo tempo, parato da Colombo quando i rosso-blu conducevano già 3-0. Nella ripresa ospiti in 10 e poi la rete di Giucci, doppietta oggi per lui, per chiudere i conti definitivamente in una gara dominata dall'inizio alla fine. Il successo della 22esima giornata per 4-0 contro il Tor Sapienza vale l'aggancio all'ostiamare al secondo posto sulla scia della Turris. Torres che deve rinunciare a Milani fuori per infortunio e si affida davanti ai soliti De Martis e Sartor e a Giucci, oggi ha la sua prima gara da titolare. La cronaca si apre al tredicesimo corner di De Martis, sponda di congiù per Sartor che davanti alla porta non fallisce e firma l'1-0. La Torres è con la testa giusta e non concede nulla agli avversari. Le azioni si moltiplicano e al 22esimo arriva il raddoppio. Il tocco di De Martis è delizioso e Giucci ha la porta spalancata e non si lascia sfuggire l'occasione per firmare il 2-0. Tor Sapienza che non ha le armi per controbattere all'aggressività e alla manovra rapida della Torres. Si aggiunge un autogol a piegare definitivamente le gambe alla formazione ospite che al 26esimo va sotto. Sul cross in area di De Martis non è fortunato Dovidio che nel tentativo di anticipare Sartor spiazza Rausa per lo 0-3. La Torres è in controllo e costantemente in avanti. Ci vuole una bella giocata di Rocchi al 29esimo per vedere il Tor Sapienza in area. Il suo tiro è parato da Colombo. Il portiere rosso-blu, poco impegnato oggi, si dimostra attento anche sull'unica vera chance di gol degli ospiti. Il rigore è assegnato dal signor Jacobellis per il fallo di Ruiu su Panella al 40esimo. Sul dischetto ci va Rocchi ma il pallone è prima respinto da Colombo e poi ci pensa la difesa ad allontanare. Per il classe 2001 rosso-blu si tratta del secondo rigore parato in stagione. Si va a riposo con una gara già in archivio. Nella ripresa piove sul bagnato per il Tor Sapienza che resta in 10 per questo fallo più ingenuo che cattivo di Cannizzo su Masala. Torres è in scioltezza che può fare andare le gambe come fa Russo al nono che al termine di una cavalcata palla al piede e sulla fascia si conquista un calcio d'angolo. Dal corner ancora Russo a mettere in mezzo un pallone che arriva tra i piedi di Giucci pronto a girare in rete la sua personale doppietta e il definitivo 4-0. Game over. Mister Mariotti fa spazio a Samuele Pinna e Vagge per De Martis e Colombo. Poco dopo anche l'esordio per il classe 2002 Claudio Fadda, talento macomerese proveniente dal vivagio rosso-blu che si allena ormai in pianta stabile con la prima squadra. Una bella soddisfazione per lui. Giucci potrebbe firmare anche la sua tripletta ma si salvano gli ospiti. Al 26esimo Ruiu riceve da Pinna, si libera e conclude, palla di poco alta. Dentro anche Virdis e poi Cossentino. Torres che va vicino al gol al 34esimo. Masala con un'azione di forza e strappa applausi serve in aria per Virdis. Controllo e conclusione ma Rousa rispinge con i piedi. E l'ultimo brivido di una domenica perfetta. La classifica sorride rosso-blu che domenica saranno impegnati in trasferta sul campo del Cassino. Grazie.